ciao sono matteo pittaluga e in questo video direttamente dalla mia villa alle maldive ti parlerò di come puoi vivere anche tu la vera laptop lifestyle ma prima di parlare seriamente credo proprio che farò un salto in acqua eccoci allora davvero pensavi che potessi insegnarti come vivere la laptop lifestyle da una spiaggia mentre prendo il sole al mare no ti ho portato qui nel mio studio per parlarti dell'importanza di acquisire capacità altamente monetizzabili so che probabilmente se stai guardando questo video ti interessa in qualche modo l'idea di poter lavorare con il tuo computer in totale libertà e autonomia mentre viaggi per il mondo oppure anche comodamente da casa purtroppo però vedo così tante persone che perdono la testa dietro a questi mille oggetti luccicanti e opportunità che sembra offrire oggi il web poi in realtà la maggior parte di questi progetti sono ad alto rischio e finiscono per deluderti la realtà qual è è che per vivere la vera laptop lifestyle ci vogliono abilità ci vogliono abilità altamente monetizzabili che si acquisiscono da qui da casa mentre tu studi con il tuo computer impari realmente come lavorare online per questo ti voglio parlare di quella che secondo me è l'abilità altamente monetizzabile più importante cioè il marketing digitale la maggior parte dei miei studenti che si sono avvicinati a questa materia sono riusciti nel giro di poco tempo a lanciare con successo la propria carriera da social media manager il social media manager una figura molto richiesta oggi sul mercato è in assoluto la professione digitale più richiesta oggi dalle imprese che si stanno digitalizzando e rappresenta davvero una grande opportunità per chi si vuole avvicinare a questo mondo e dare una svolta alla propria carriera professionale se ti interessa approfondire l'argomento se ti interessa acquisire queste competenze ho lasciato in descrizione il link per la mia lezione gratuita dedicata al marketing digitale al termine di questa lezione avrai chiaro come poter acquisire queste competenze e soprattutto metterle sul mercato da subito per dare una svolta alla tua carriera professionale lascio qui in descrizione il link clicca sul link registrati gratuitamente alla mia lezione e ci vediamo in diretta